Ha visto cosa hanno fatto i lavoratori della nettezza urbana di Vibo? Hanno fatto poco, potrebbero fare molto di più, perché manca un'amministrazione, non è solo il problema della spazzatura. Io sto andando giusto al Comune per protocollare per quanto riguarda le bollette dell'acqua. Io sto lavorando, ho dovuto chiedere un permesso per poter venire qua al Comune a protestare un mio diritto. Penso che sia l'estremo rimedio o l'estremo male. Li vedo qua che non fanno niente, non lo so che fanno. Non lo so quello che fanno perché non mi interessa. Lo sa che rischiano il posto di lavoro? Che la metà di loro se ne deve andare a casa a fine mese? Ma signora mia, non lo so, potrebbe essere, ma chi perde se nel lavoro non ce n'è, non è che... Mio figlio l'ha perso il lavoro con l'Alitalia e ha dovuto cercarselo il lavoro. La ditta che ha preso l'appalto evidentemente ha motivo di licenziare perché senz'altro si regola che con un numero X potrebbe fare il servizio. È una situazione difficile da analizzare, è una situazione difficile da risolvere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.